L'Italia, un paese bello in cui vivere oppure no? Ciao a tutti! Devo chiedervi di nuovo scusa per la mia mancanza di video o qualcosa scritto in italiano. Il motivo è che sono in vacanza in Messico con la mia famiglia. È stato molto rilassante finora e domani andremo a Itzamal, una piccola città nello stato del Yucatán. Dopo esserci stati, torneremo a Merida a riposare un po' prima di uscire nella notte. Stavo pensando di cosa avrei potuto parlare nel mio prossimo tema e non ero riuscito a decidere di trovare qualcosa di interessante. Certo, ciò che mi affascina forse non è rilevante per le altre persone. Comunque, se l'argomento non mi coinvolge, immagino che sarà ancora più noioso per i miei lettori. Allora, stavo leggendo i commenti di una pagina del foro easyexpert.com. Cioè, tutto il mondo mi aveva detto, Ah, l'Italia è un paese pieno di cultura e romanticismo. È un paese dove tutto è bello e ogni persona gode una vita rilassante con il vino rosso e con il buon cibo. Ebbene, non è certo tutto qui, però esiste questa impressione per molti inglesi. Ciò valeva anche per me, anche se ora non è più così. Un'altra persona si è lamentata. Mi sono stancato di vivere in questo paese che ti crea solo problemi, tensioni, stress e quant'altro. E lì vuol dire che non è soddisfatto della condizione del suo paese, o almeno di come la percepisce. Un altro ancora si è lamentato della condizione di vita in Italia. E ha insistito per fare un confronto con Barcellona. L'Italia è un disastro. Ha detto poi che, a differenza dell'Italia, la Spagna vuole uscire dalla crisi e grazie alla propria cultura e vivacità ha la potenzialità di farlo. Insistendo che l'atteggiamento della Spagna gli dà la possibilità di migliorarsi riguardo all'economia. Mentre non è così per Italia. Nella stessa pagina ci aveva molta gente cercando lavoro. Una ragazza chiedeva, Chi sa darmi un consiglio su come trovare lavoro? E un altro aveva risposto, Sono aperto ad ogni tipo di conoscenza, ma, come te, sono un po' allo sparaglio. Sembrava che per quasi tutti l'Australia sia una delle destinazioni più affascinanti, perché molte delle persone in questo foro hanno proclamato quanto sia bello e meraviglioso. Una persona ha anche detto che l'Australia è una delle destinazioni che mi attirano da morire. È vero? Allora, c'è una domanda che resta da fare. O ci sono molte bugie che la gente dice sull'Italia, o queste persone del foro hanno avuto cattive esperienze riguardo al lavoro, però non sono esempi tipici dell'Italia. Quale dei due è? Vorrei che le persone con conoscenza sul tema di cui ho parlato oggi mi dicano cose ne pensano, perché è stato per me sorprendente vedere i commenti così. Per finire, voglio dire che le esperienze che ho avuto in Italia sono sempre state buone. È certo che ogni volta che sono andato lì ero con la mia famiglia oppure degli amici, ma le interazione con la gente erano positive e mi piaceva moltissimo il cibo. Riconosco che in fondo le cose non sempre sono così belle come sembrano, ma nonostante questo, ancora voglio tornarci. Grazie per aver ascoltato. A dopo.